I temi della politica nazionale ed europea, d'accordo, ma la mattinata dei big a Palazzo Vecchio nell'ambito di State of the Union è stata anche l'occasione per due eventi, più a connotazione locale, una premiazione e l'inaugurazione di un'esposizione. Il riconoscimento a Europa a misura d'impresa è stato consegnato dal Presidente del Parlamento europeo Tajani e da quello della Camera di Commercio di Firenze e Basilichi ai rappresentanti di tre PMI innovative fiorentine, vale a dire Giotto Biotech, Magenta SRL e ZP Studio. Il nostro futuro dipende da voi, il futuro dei nostri figli dipende da voi. Non possiamo pensare che i nostri figli vadano a fare tutti gli impiegati pubblici. Senza piccole e medie imprese non si crea occupazione. Noi abbiamo il dovere di non mollarvi, mettervi nelle condizioni, accesso al credito, regole, sostegno finanziario non con aiuti a pioggia, ma con la realizzazione di programmi europei che vi permettono anche di partecipare all'innovazione, di essere protagonisti nella ricerca, anche se siete piccoli. Ci piace l'Europa che ci supporta sulle idee, ha chiusato Basilichi, che ha tra l'altro portato alla conferenza il saluto delle 136.901 imprese fiorentine di cui l'ultima ha rivelato appena nata. Come detto, oltre alla premiazione, a margine della mattinata, anche l'inaugurazione di un'esposizione nel cortile di Michelozzo da parte del ministro Alfano. Nelle tech dell'esposizione, che si intitola Alcide de Gasperi e l'Europa, la riproduzione dei documenti del Fondo dello Statista, vero e proprio pioniere della comunità, che generalmente sono conservati presso gli archivi storici dell'Unione Europea.